ragazzi sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del torneo dedicato alla mia community sui football il primo sul nuovo football infatti inizia appena arriva il nuovo gioco ho creato un'edizione per playstation appunto la terza edizione con 400 euro di monte premi è un'edizione la prima edizione lo specifico per xbox con 150 euro di monte premi se volete iscrivervi o volete più info contattatemi trovate i social per farlo in descrizione e nel commento fissato in alto vi aspetto numerosi bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme sempre sui football 2025 per un video che stavate aspettando infatti avevo chiesto 100 mi piace nello scorso contenuto per avere appunto il video approfondimento sul modulo ne sono arrivati 180 quindi siamo qui per questo oggi per le istruzioni per l'approfondimento sul modulo a 5 che vi ho mostrato ragazzi questa parte è fondamentale iscrivetevi attivate la campanella lasciate un bel like almeno 100 mi piace di supporto e sapete che faccio se arriviamo ai 100 mi piace vi pubblico un nuovo modulo perché ne ho già trovato un altro ragazzi che funziona molto bene quindi lasciate il like e vi metto il nuovo modulo e fatemi sapere anche nei commenti anche questo è fondamentale come vi state trovando appunto utilizzando questo modulo a 5 di cui oggi vi darò le istruzioni inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame se volete migliorare seriamente magari imparare le skill imparare a difendere come si deve e tanto tanto altro contattatemi trovate i social per farlo in descrizione e nel commento fissato in alto ora ragazzi miei non perdiamo ulteriore tempo andiamo subito ad analizzare questo modulo a 5 che vi ho presentato nello scorso video e ovviamente vi vado a far vedere anche le istruzioni questo ho messo qua lo aggiustiamo perché quando utilizzo quella 5 in genere gioco così ok eccolo qui allora partiamo subito con ovviamente il portiere il portiere o difensivo offensivo come volete voi l'importante cosa secondo me è fondamentale per il portiere che sia alto almeno un metro e 90 un metro e 88 un metro e 90 non di meno e che abbia il rinvio teso perché giochiamo in contropiede veloce parentesi questo modulo secondo me è molto funzionale come tutti i miei moduli con contropiede veloce o con contrattacco meglio con contropiede veloce ma funziona anche con contrattacco possesso palla secondo me non è adatto né tantomeno via via laterali perché possesso palla non ha molto centrocampo a livello proprio di mediani e di centrocampisti che possono appoggiare la difesa durante il palleggio e via laterali perché ovviamente non ha sbocco sulle fasce a meno che non andiamo a tenere liberi i terzini ma adesso vi dirò tutto prendiamolo per buono comunque per contropiede e per contrattacco allora come vi dicevo il portiere non è importante difensivo offensivo la caratteristica importante è l'altezza ovviamente più è alto di overall meglio è quindi mettete il portiere più alto e con overall più alto scusate la ripetizione che avete e con il rinvio teso questo è fondamentale che sia difensivo offensivo poco ci importa poi i terzini il terzino sinistro io in questo caso ho un incontrista ma perché perché non voglio rinunciare a maldini e perché mi serve nel modulo primario anche ma se non avete intenzione di utilizzare il mio modulo primario non c'è un modulo diciamo perché prendiamo come se questo a 5 fosse quello primario no io ce l'ho qua come secondario però immaginiamo che che sia quello primario ok e non esiste un modulo secondario abbinato proprio apposta io lo uso così potete abbinarci quello che volete come secondo ecco che vi sto dicendo però se volete utilizzare come secondario il mio primario cioè questo qui vi consiglio di fare quello che ho fatto io quindi ad esempio come terzino uso un incontrista perché poi nel modulo primario cioè in quello lì con quattro difensori lui mi va a fare il dc incontrista però eventualmente potete utilizzare qui anche un terzino che possa fare anche il dc così quando switchate all'altro modulo quello che io come primario se volete utilizzare questo come secondario eventualmente di questo qui potete fare lo switch senza dover cambiare il giocatore in questo modo non è importanza comunque potete mettere offensivo difensivo incontrista sviluppo basta che può fare il terzino può fare il dc e che ha un'altezza minima di un metro e 85 e ottime statistiche difensive come vedete tutte quante statistiche sopra i 90 ovviamente ormai li regalano i giocatori con le statistiche sopra i 90 quindi non mi venite a dire dove li trovo se non scioppo perché anche un semplice van de ven che questo l'ho pagato un euro se non erro a statistiche sopra i 90 quindi non è difficile assolutamente trovare questo tipo di statistiche la velocità anche importante almeno verde sopra gli 80 per permetterci di andare come si deve a scattare quando si rincorre gli esterni avversari che molto spesso vanno al cross soprattutto con questo tipo di gameplay poi affiancato a maldini quindi al terzino io vado a mettere un incontrista questa volta deve essere per forza incontrista quindi ci vuole assolutamente l'incontrista che possa andare a fare il difensore centrale e che sia estremamente forte anche a livello di statistiche difensive un'altezza minima di un metro e 85 ma solo perché tomori salta come un grillo altrimenti mantenetevi almeno su un metro e 88 un metro e 90 è una velocità importante anche in questo caso statistiche verdi per quanto riguarda la velocità io qua vado a mettere un collante vado a mettere un collante come dc un collante che può fare anche il dc anche se con la passiva spenta sempre per il motivo di maldini quindi perché quando vado nel primario pam mi va a fare il mediano lì quindi però se avete intenzione di non utilizzare diciamo un altro modulo ad appoggio di questo e avete intenzione utilizzare solo questo a 5 potete sostituire il collante anche con uno sviluppo qui ok quindi potete sostituire il collante con uno sviluppo non con un incontrist con uno sviluppo ragazzi uno sviluppo con una velocità importante le statistiche devono essere queste sopra i 90 o che si avvicinano al 90 è una velocità verde ecco lo sviluppo ha una cosa in comune con il collante di solito ci hanno i passaggi li sanno fare ecco adesso rai gar c'ha proprio i piedi buoni nel fare i passaggi non vi chiedo questo tipo di statistiche l'importante diciamo le statistiche obbligatorie in questo dc che può essere come già detto o collante o sviluppo e che sono quelle difensive e quella di velocità lo ripeto di nuovo se dovete utilizzare il mio primario o un primario che vi serve un mediano collante allora utilizzare il dc collante altrimenti va bene anche lo sviluppo spero di essere stato chiaro su questo punto a fianco al collante slash sviluppo un altro sviluppo non collante questa volta proprio sviluppo deve essere obbligatorio molto alto un metro e 88 un metro e 90 io c'ho addirittura van de ven che un metro e 93 che non è una carta epica come già detto è una carta che io ho pagato un euro al primo giro mi è uscito in un pool che c'era dei guardians appunto le statistiche come dicevo sempre che si avvicinano al turchese al blu quindi sopra i 90 e però anche 88 89 quel tipo di statistiche diciamo non sotto e la velocità molto importante deve essere tutta la difesa veloce ecco questa è una caratteristica molto importante di questo modulo ci vuole rapidità in difesa per difendere a 5 anche e tutti quanti gli uomini devono essere alti e veloci tenete sempre a mente questa cosa esempio qua van de venne proprio arriviamo 89 di velocità ma lui è proprio stratosferico va bene anche 80 81 82 l'importante è che siano statistiche verdi diciamo non sul 70 la difesa invece è obbligatorio che si avvicina almeno ai 90 89 88 più più difende bene meglio è e l'altezza anche perché ho detto tutta la linea difensiva deve essere alta e deve essere veloce però negli sviluppi in questo caso che ci vuole proprio lo sviluppo più alto possibile qui il terzino o difensivo o offensivo o sviluppo quello che volete basta che può fare il terzino e un'altra caratteristica deve avere vabbè l'altezza anche in questo caso con un minimo di un metro e 85 vabbè mai con un metro e 84 però va bene uguale un centimetro non cambia un cavolo e la caratteristica anche importantissima deve essere quella della difesa quindi devi avere una difesa molto importante anche in questo caso io a mai con gli ho fatto una build difensiva mi fa impazzire lui perché skill anche di suola quindi molto spesso me ne vado pure sulla fascia però potete utilizzare anche un altro non perché ce ne sono di migliori io ho la fissa per lui che ha giocato pure nella roma però ripeto potete utilizzare anche altri altri giocatori l'importante che abbiano buone statistiche difensive simili a quelle che vi sto mostrando e buone statistiche a livello di velocità accelerazione non è importante ma velocità mi interessa soprattutto come i difensori come tutti i difensori diciamo poi un minimo di passaggio come tutti i terzini è meglio sempre averlo però qua addirittura c'è 82 84 va bene anche un 74 75 76 un minimo di passaggio giusto per non fargli sbagliare tutte le uscite palla al piede quindi abbiamo fatto la difesa ragazzi parliamo del mediano io qua metto un mediano incontrista potete mettere anche un onnipresente volendo potete mettere anche un onnipresente e il collante no se non siamo troppo difensivi e già abbiamo la difesa 5 quindi non ha senso mettere il collante e ovviamente molto alto quindi che si avvicina al metro e 88 metro e 90 io ho viera un metro e 92 ma non è che dovete utilizzare per forza viera potete utilizzare anche giocatori gratuiti questo modulo funziona anche con i giocatori gratuiti l'importante come dico sempre è seguire le statistiche seguire le direttive che ovviamente do anche a livello di altezza non solo a livello di statistiche ma le statistiche sono le cose più importanti ovviamente quindi difesa importante che si avvicina o supera i 90 velocità importante verde come dico io quindi sopra gli 80 e un minimo di piedi li deve avere ecco non è che deve essere super tecnico perché comunque le statistiche predominanti devono essere quelle difensive quindi non si può avere tutte e due ecco però un minimo di piedi ce li deve avere quindi verdi almeno sopra gli 80 per quanto riguarda passaggio verso terra e passaggio alto per non sbagliare tutte le uscite dalla mediana ci sono i giocatori così e non è per forza viera basta cercare un attimino potete mettere un incontrista potete mettere un onnipresente e basta o un incontrista o un onnipresente collante no se no stiamo veramente troppo troppo difensivi qui i due trequartisti ragazzi questi sono due trequartisti che andranno sia a dare una mano a livello del centrocampo della difesa quindi molte volte saranno in mezzo ai cosiddetti all'avversario quando deve ulteriormente oltre la difesa 5 oltre il mediano anche loro vanno a coprire ma soprattutto supportano la manovra offensiva perché a un occhio inesperto a un occhio inesperto questo può sembrare un modulo che non favorisce anche la fase offensiva in realtà non è così perché con questo modulo grazie all'appoggio dei due trequartisti che spingono soprattutto il giocatore chiave che vediamo qui sulla sinistra abbiamo un notevole appoggio appunto abbiamo un notevole supporto a Neymar che va a inventare a Rumenig che si inserisce e quindi praticamente si attacca in quattro alle volte anche in cinque quando si va a staccare via i ra perché essendo incontrista senza nessuna istruzione e poi lo vedremo e così farebbe anche l'onnipresente un minimo va in avanti perché vi erano le istruzioni poi vi dirò quali sono le istruzioni prima finiamo di parlare a livello teorico dei giocatori da mettere in campo qui come dicevo poco fa ve l'ho già spoilerato ci vuole il giocatore chiave non per forza le awe va bene un qualunque giocatore chiave deve essere però un minimo alto quindi un'altezza per farci un po di sponde di testa perché tutto il resto dell'attacco non è alto quindi ci vuole almeno uno alto in attacco che fa le sponde di testa ma questo è più difficile trovare un giocatore del genere però si può trovare si può cercare con un minimo di accelerazione quindi bello veloce almeno sopra l'85 l'accelerazione addirittura le auce a 97 vabbè e con i piedi buoni vabbè e grazie al cavolo mi direte voi che giocatore chiave è se non hai piedi buoni quindi dribbling possesso un po di passaggio che possa fare l'attaccante ecco questo è il il suggerimento che vi do giocatore chiave mi raccomando perché si deve inserire qui io vi suggerisco messi l'hanno regalato quindi non mi sfastidiate qua mettete proprio messi anche l'ultimo che hanno regalato regista creativo va benissimo non mi scrivete io messi non lo so usare messi non è buono messi è scarso perché evidentemente siete voi che non siete buoni che messi è uno dei giocatori più forti del gioco quindi senza parlare dire no io metterei questi ma tre no mettete messi ce l'hanno tutti lo hanno anche regalato adesso e non è il primo che regalano qui vale la stessa cosa che ho detto su messi non sfastidiate ragazzi mettete nei mar mettete nei mar perché l'hanno regalato a tutti perché nei mar è uno dei giocatori più forti del gioco utilizzatelo comunque in ogni caso e proprio non li volete mettere qua ci va il registro creativo con statistiche importante a livello di accelerazione a livello offensive l'altezza non è importante infatti messi un metro e 70 e qua ci va un altro regista creativo anche qua fondamentale l'accelerazione e le statistiche tecniche però vi dico se volete fare le cose per bene qua mettete messi e qua mettete nei mar ah parentesi io qua non ho il regista creativo ho il taglio al centro in teoria andrebbe il regista creativo ma questo messi taglia al centro è talmente tanto buggato che spacca comunque poi si comporta molto senza stile perché ha lo stile disattivato di sugo si comporta in maniera molto simile a un regista creativo non si sa perché ma è così quindi io per questo metto lui ma se non avete lui regista creativo è lo stile di gioco adatto per questa posizione specifica del campo qua nei mar l'abbiamo detto se non ce l'avete regista creativo anche qui e poi l'opportunista qua in cima va l'opportunista anche qua su nei mar non è importante l'altezza ovviamente l'opportunista perché ad esempio fosse nei mar potete mettere un digno il digno potete mettere se vista sul cazzo nei mar però per dire l'opportunista la punta questo è quello che ti andrà a fare i gol in questo modulo quindi non deve essere fulcro di gioco è non opportunista perché l'opportunista scatta in avanti un'accelerazione importante sopra i 90 statistiche offensive importanti a livello di dribbling possesso stretto comportamento controllo palla passaggio molto molto meno molto meno importante rispetto ai colleghi che vi ho mostrato prima perché il compito di rumenic è buttarla dentro potete mettere mbappé potete mettere sceva ne potete mettere altri anche l'importante è che le statistiche rispettino più o meno quello che ho detto quindi l'altezza non è importante anche se un metro e 82 in rumenic non è bassissimo e questo è anche buono l'altezza non è importante come dicevo l'importante è l'accelerazione e le statistiche offensive a livello di conclusione importa il passaggio meno ok detto questo ovviamente sistematevi acconciatevi la panchina in modo tale da poter mettere giocatore chiave per giocatore chiave nel caso di dove io tengo leao regista creativo per regista creativo io mi porto anche un attaccante di rientro perché molte volte quando vedo che scarseggio a centrocampo passatemi il termine tolgo a me si metto maradona attaccante rientro trequartista che mi sta un pochino più dietro gestisce la palla ed è comunque molto tecnico però io in genere mi porto anche i cambi precisi per fare stile di gioco esce stile di gioco uguale entra ma portatevi anche qualcuno per cambiare gli stili di gioco non si sa mai non va a girare per smuovere la cpu e cercare di cambiare una partita bloccata magari in difesa cercate di rispettare il più possibile gli stili perché ho notato che appena si cambia uno stile di gioco in difesa si apre in due quindi quello lo dovete rispettare in attacco volendo a livello di cambi potete gestirvelo un po di più potete divertirvi un po di più ecco voglio dirvi anche un'altra cosa che non l'ho detta e spero che non mi mangerete tutto quello che sto dicendo serve per far girare il modulo esattamente come vedete a me in campo nelle partite se voi volete cambiare qualcosa potete farlo però ovviamente non credo che vi girerà lo stesso modo ci sarà qualcosa di differente quindi non è che per forza mi dovete copiare se volete far così avete la sicurezza che vi gira come mi gira a me mani permettendo ovviamente se volete cambiare qualcosa invece ci sarà anche un movimento diverso in campo a livello dei dei giocatori appunto che mettete ok andiamo a vedere le istruzioni adesso molto molto importanti difensivo su mycon quindi sul terzino destro difensivo sul terzino sinistro contropiede rumenig contropiede neymar beh ragazzi io direi che per questo video può bastare così ovviamente fatemi sapere nei commenti se già state provando questo modulo se avevate indovinato le istruzioni individuali oppure no io come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia noi ci vediamo al prossimo contenuto un abbraccio dal vostro simo play bella ragazzo